La salute non deve rimanere una mera enunciazione di principio, ma attuata con i fatti. Vogliamo favorire elementi creative e la cultura nel territorio, grazie a concorsi di idee sulle orpere pubbliche. Ripensare i trasporti e la mobilità del nostro territorio in modo integrato. È indispensabile favorire e rendere competitivi i mezzi alternativi per la mobilità. Vogliamo migliorare la qualità del lavoro e della vita di ognuno di noi, aumentare la biodiversità nell'attività umana così come in natura. Riqualificare, riorganizzare e valorizzare le professionalità all'interno dell'amministrazione pubblica attraverso criteri di rimeritocrazia, liberando quel potenziale umano attualmente imbrigliato da logiche di partito. Energia e risparmio. Ogni edificio può diventare una piccola centrale di produzione di energia da fonti rinnovabili. Aumentare l'efficienza e far sì che il bilancio energetico di ogni struttura sia positivo. Vogliamo rispettare le normative comunitarie sulla limitazione al consumo del territorio, attualmente disattese. Vogliamo ritornare a un sistema di espropriazione delle aree a valore agricolo, annullando la speculazione sulla rendita fondiaria. Il Movimento 5 Stelle Grosseto nasce da persone libere che vivono nella nostra terra e che hanno scelto di impegnarsi direttamente nella vita politica e amministrativa del nostro comune e della nostra città. Stiamo vivendo una crisi del sistema a tutti i livelli. Occorre affrontarla come una grande occasione per migliorare la qualità della nostra vita attraverso scelte lungimiranti, che prevedano una minore e più dolce interazione delle attività umane con gli ambienti naturali. La partecipazione delle persone alla politica è fondamentale. Accontentarsi di delegare i partiti non può essere la sola attività politica di un cittadino. Dobbiamo recuperare il nostro senso di responsabilità, studiare e conoscere la realtà in cui viviamo, e partecipare direttamente al cambiamento. L'amministrazione locale è lo strumento di gestione e coordinamento della nostra comunità e la sua attività. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.